Perché siete qui davanti al Palazzo della Consulta? Per protestare contro un furto fatto dalla Corte, contro la volontà di 570.000 sottoscrittori del referendum per difendere le decine di migliaia di esodati e di lavoratori che andranno in pensione a tarda età e che quindi impediranno ai giovani di entrare nel mondo del lavoro. Che la pronunciamento della Consulta non significhi che sulla lettera di Fornero non si debba mettere mano. Assolutamente bisogna stravolgerla visto che la Corte ci ha impedito di buttarla nel cestino.